Una grande fiera internazionale dedicata al turismo mediterraneo, con oltre 400 espositori e con gli enti turistici di 22 nazioni. La domanda e l'offerta professionale si incontreranno in questo weekend alla mostra d'Oltremare di Napoli, dove ha luogo la Borsa Mediterranea del Turismo, dedicata alla scoperta delle bellezze del territorio, alla navigazione, ai soggiorni termali, importanti risorse capaci di attrarre viaggiatori italiani e stranieri e sostenere l'economia locale. È una mostra che consolida un'esperienza fatta da privati, ma che ha tutta la caratteristica per essere un importante appuntamento e fare di Napoli uno specchio verso il Mediterraneo, per il turismo che, come sempre, deve coniugare cultura e identità fortemente artistica della nostra città, della nostra regione e anche del nostro paese. Negli incontri aperti con gli esperti del settore si discuterà anche di esperienze innovative, come il cine-turismo, la mobilità integrata e le nuove tecnologie al servizio del turismo. Il turismo come identità forte della nostra cittadinanza, del nostro futuro.